Bene, buon pomeriggio. Come sapete oggi l'incontro di Biodiritto è dedicato a un tema diverso rispetto ai temi che stiamo trattando nel corso. Stiamo trattando di donazioni mitocondriale, di CRISPR-Cas9, di tecniche all'avanguardia per vedere come il diritto approccia queste novità, queste innovazioni dal punto di vista tecnologico. C'è, come forse ricorderete, un altro ambito del biodiritto, il diritto che ci occupa della vita, che potrebbe essere sviluppato in un corso di biodiritto. Forse ricorderete quelle diapositive del worldmapper.org, quelle diapositive che mostravano come i dati rispetto all'aspettativa di vita, alla vita delle persone su questo nostro pianeta, i dati fossero molto diseguali. E allora l'idea era di parlare di un biodiritto, un diritto alla vita in termini più quotidiani, affrontando un tema che vede, fra l'altro riempie ormai quotidianamente i giornali. Avete forse visto che l'Oxford Dictionary ha scelto, ha selezionato come parola dell'anno il post-truth, il post-verità. Cioè non siamo più abituati alla verità e lavoriamo su ciò che non è verità. Si è fatto riferimento all'elezione di Trump, si è fatto riferimento alla Brexit. Insomma si gioca più che sui dati veritieri o attendibili, su dati di suggestione, dati che colpiscono l'emozione. Allora penso che su tematiche come queste, tematiche come la tutela delle povertà e dei migranti, temi riferiti alla salute delle popolazioni in povertà e le popolazioni migranti, invece sia bene partire dal ripristinare non la verità, ma dare alcuni dati, anche per smentire alcuni falsi miti che anche in questi giorni circolano sulle trasmissioni televisive e sui giornali. Quindi per fare questo abbiamo pensato di invitare Antonio Fortino, che è il direttore sanitario del National Institute for Health, Migration and Poverty di Roma, l'ex sangallicano per chi ha lavorato su queste cose, che è la persona probabilmente più adatta per darci. sia un inquadramento di carattere teorico generale, che poi darsi un inquadramento di carattere molto pratico, visto che il suo lavoro è proprio lavorare a questo ospedale dedicato a una fascia della popolazione vulnerabile. Quindi il dottor Fortino, che ringrazio davvero, è venuto da Roma apposta per questo incontro con noi, inizierà proprio dandoci alcuni dati in riferimento alle migrazioni, alle povertà, lavorerà poi su dati relativi alla salute per poi raccontarci anche un po' delle politiche che si cerca di fare perché i principi costituzionali di eguaglianza, non discriminazione, diritto alla salute siano davvero concretizzati e non rimangano solo sulla carta. Antonio, molte grazie per essere qui con noi e ti cedo la parola. Grazie professor Casonato, ai suoi collaboratori e grazie a tutti voi. Io sono un medico, quindi vengo da una cultura molto diversa dalla vostra, ma è stato abbastanza intrigante assecondare la proposta del professor Casonato per trovare delle intersezioni tra questi due saperi, quello medico-scientifico e quello giuridico che voi state coltivando. Abbiamo poco più di un'ora, la dottoressa Busalta mi farà segno quando è il momento, quindi cercherò di essere conciso forse anche troppo in qualche passaggio e casomai nelle domande potremo chiarire qualche punto su cui sono andato troppo veloce. Vi lascio in ogni caso una bibliografia in cui, se siete appassionati al tema, troverete diversi approcci sia di tipo epidemiologico, sanitario, sia anche di tipo sociologico e giuridico. Bene, da qui per le diapositive vado avanti con questo, giusto? Bene, questo è il titolo che abbiamo dato per inquadrare un po' l'argomento, salute, migrazioni, povertà, diseguaglianze, una sfida. Una sfida, diciamo perché è un campo nuovo, o meglio riprende in forma nuova questioni antiche. Voi sapete che il Servizio Sanitario Nazionale è nato proprio per affrontare la sfida della povertà e delle classi escluse e questa ispirazione oggi deve in qualche modo trovare una nuova linfa a fronte dei problemi che la società italiana e la società europea stanno vivendo. Questa è una fotografia del nostro istituto a Trastevere a Roma, un istituto nazionale che ha una sede, la sede è a Roma ma ha anche attività che si svolgono in giro per l'Italia, in questo momento si svolgono a Lampedusa e a Trapani dove abbiamo delle equip mediche, psicologiche, di mediatori culturali che si occupano della prima assistenza agli sbarcati. E' un istituto che ha una doppia anima, nato recentemente, ha una doppia anima, quella diciamo della medicina delle migrazioni, così si chiama, questa non disciplina, cioè questo insieme multidisciplinare di competenze che nascono per affrontare il problema delle migrazioni. E l'altro pilasto dell'istituto è appunto il tema delle diseguaglianze e oggi durante questa presentazione vedrete che i due argomenti, migrazione e diseguaglianze o povertà, che dir si voglia, si intrecceranno. Quindi vi chiedo anche un po' di pazienza di seguire questo filo contorto, sperando poi di riannodarlo alla fine. Io parlerò un po' di migranti, un po' di poveri e questi due temi che concettualmente sembrano molto distinti, poi piano piano spero di riuscire a riportarli ad un unico filone, che poi è il filone dell'esclusione, l'esclusione sociale e del problema dell'integrazione. Quindi qui c'è un po' una scaletta delle cose che cercherò di dire. Partiremo da alcuni dati, poi affronteremo anche alcuni pregiudizi che sono diffusi su questi due argomenti delle migrazioni e delle povertà, poi cominceremo a vedere le connessioni tra questi due argomenti parlando di determinanti di salute e di diseguaglianze. A fronte di questo quali sono le effettive condizioni di salute dei migranti e le malattie legate alla povertà. E poi nella seconda parte, invece, fatta la diagnosi, passeremo un po' alla terapia, cioè quali sono le modalità di intervento su questi due temi, per poi trarre una conclusione che spero vi possa trovare consenzienti. Allora, anzitutto, qualche dato sulle migrazioni. Le migrazioni ormai sono un fenomeno stabile del nostro Paese. Fino a qualche anno fa erano vissute come un fatto passeggero o emergenziale. Oggi le migrazioni riguardano oltre 5,4 milioni di persone presenti regolarmente e si stimano circa 400 mila gli stranieri irregolari. Quindi è un fenomeno che investe in maniera importante tutta la società italiana, dalla scuola alla sanità, alla giustizia, ai servizi sociali. Quindi è un fenomeno di portata, come dire, epocale per il nostro Paese. Vedete che il 30% degli immigrati proviene dalla Romania. E questo già attrae l'attenzione su un punto. Lo stereotipo dello straniero come africano o asiatico non è, diciamo, fondato. O musulmano, perché gran parte degli immigrati, degli stranieri presenti in Italia sono europei, sono cittadini europei, molti di religione cristiana. Quando parliamo di stranieri, ovviamente ci riferiamo a persone che non hanno la cittadinanza italiana. Questo termine è a volte usato in maniera, come dire, allo stesso modo che migrante. Però il migrante, diciamo, è una persona che ancora non ha concluso il suo percorso migratorio. Perché quando lo conclude diventa un immigrato. Però ormai è entrato nella consuetudine di usare la parola straniero e la parola migrante come sinonimi. Non è proprio la stessa cosa. Così come tra i migranti non tutti sono uguali. Ecco, questo è un altro punto che un po' scardina gli stereotipi. Cioè, oltre a questo abbiamo detto che molti sono migranti europei. Poi all'interno dei migranti ci sono diversi sottogruppi e ognuno di questi porta problemi e porta, diciamo, questioni che sono diverse. Ad esempio, i migranti cosiddetti economici, cioè la signora che viene dalle Filippine per accudire alle nostre nonne o alle nostre mamme, sono diversi dai migranti che sono qui per motivi politici, per motivi di persecuzione, i cosiddetti richiedenti asilo, che poi diventano titolari di un riconoscimento che può essere appunto la qualifica di rifugiato. O, se non di rifugiato, altre forme di tutela sono la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. Sono diverse tipologie di protezione che si danno. Quindi migranti economici, migranti cosiddetti forzati, tra queste due categorie ci sono anche individui, persone che sono un po' l'uno e un po' l'altro. E che quindi hanno un inquadramento anche giuridico e di tutele difficile. Per esempio, i migranti, le migranti che provengono dalla Nigeria. Molte ragazze, anche di giovane età, sono uno dei gruppi più numerosi tra i migranti. Sono migranti economici o sono migranti politici? Perché voi sapete che in Nigeria è in atto un conflitto tribale, politico e religioso molto violento. Quindi, e questo si riflette anche poi, diciamo, nello status giuridico che viene riconosciuto a queste persone. Il quale a sua volta è una carta importante per avere la tutela sociale. Se hai un permesso di soggiorno e sei riconosciuto come titolare di un punto di protezione, hai molte più protezioni sociali di chi invece non ce l'ha. E questo cambia anche pesantemente i risvolti di salute. Quindi si intrecciano, come vedete, questioni politiche, questioni giuridiche, questioni sanitarie, questioni sociali. La crescita, diciamo, della presenza straniera è stata continua, però negli ultimi anni, negli ultimi tre o quattro anni, vedete le barre rosse sono più basse e sostanzialmente c'è un fenomeno di stabilizzazione. Cioè, il numero di migranti presenti nel nostro paese non cambia moltissimo. Un po' perché non ne arrivano più tanti come prima a causa della crisi economica. Un po' perché quei pochi che arrivano sono diretti verso altri paesi. Molto spesso usano l'Italia solo come via di transito verso la Svezia, verso la Germania, verso la Francia. Un po' perché quelli che restano nel nostro paese compensano un uguale numero di stranieri che ottengono la residenza nel nostro paese. Quindi, ormai ogni anno c'è 200-250 mila stranieri che acquisiscono la residenza, perché sono qui da tanti anni. E quindi, diciamo, non sono più tecnicamente stranieri, ma avendo la residenza sono considerati cittadini italiani. Ecco, questo volume è un po' la summa che annualmente viene fatta sulla situazione dei migranti. Fotografa tutta la statistica e tutti i problemi legati a questa popolazione. Ecco, i numeri del 2016, ve li ho già anticipati prima, sono circa 5,8 milioni gli stranieri e ai quali si somma un milione, poco più di un milione, di italiani di origine straniera, cioè di stranieri che hanno acquisito la residenza nel nostro paese. Quindi, stiamo davanti a un fenomeno non più episodico, non più limitato nel tempo, ma ormai stabile, con cui la nostra società fa i conti. Un nato ogni sette è di origine straniera, ci sono oltre un milione di minori stranieri nel nostro paese, ci sono state 178 mila cittadinanze nel 2015, il numero sbagliato nel 2015, e così via. Questo fenomeno interessa tutte le aree geografiche del nostro paese, maggiormente quelle in cui c'è più lavoro, mentre la porta di ingresso ovviamente sono le regioni del sud, poi di solito queste persone sono più dirette verso il centro nord. Anche se al sud non mancano situazioni particolari, pensate ai lavoratori stagionali della Piana di Gioia Tauro, oppure del Tavoliere delle Puglie o della Campania, ci sono aggregati di centinaia, a volte migliaia di lavoratori stagionali che vivono in completa assenza di ogni tutela, lavorano a nero, sono nelle mani di sfruttatori, lavorano 10-12 ore al giorno sotto il sole senza pausa, guadagnano 3 euro all'ora, sono situazioni veramente indegne di un paese civile. Ecco, un focus sulla parola irregolare, lo straniero irregolare è quello straniero non dell'Unione Europea, quindi di uno Stato terzo, che non ha i requisiti per entrare, oppure se li aveva li ha perduti, e quindi non ha più i requisiti per restare all'interno di uno Stato membro. Erano quelli che una volta venivano chiamati in forma dispregiativa, clandestini. Oggi si chiamano persone irregolarmente soggiornanti. Questo è un altro volume che vi ho citato in bibliografia e che affronta diversi aspetti della migrazione. È una lettura consigliata. Da questo volume ho tratto questo grafico che dimostra l'andamento oscillante della presenza irregolare. Vedete che si arriva anche a punte di 750.000, 760.000 immigrati irregolari in un anno. Attualmente siamo intorno ai 400.000. Un po' per l'effetto, come dicevamo prima, della riduzione degli arrivi e un po' anche per l'effetto delle politiche di sanatoria. Voi sapete che ormai il numero di migranti economici contingentato a queste quote è ridicolo. Il nostro Paese stabilisce, mi pare, meno di 20.000 ingressi l'anno per motivi di lavoro. È un numero talmente basso che molti migranti poi scelgono la via dell'irregolarità, sperando prima o poi di essere sanati. Bene. I migranti spesso sono anche poveri e qui entriamo nel nostro secondo tema, quello della povertà, che però interessa non solo gli stranieri, ma direi anche una cospicua fetta degli italiani. La povertà è fotografata in Italia dall'Istat e ogni anno l'Istat nel mese di luglio pubblica i dati sulla povertà. Voi vedete che nel nostro Paese ci sono circa 4,6 milioni di persone che vivono in assoluta povertà, mentre altri 8,3 milioni vivono in condizioni di povertà relativa. Cosa vogliono dire queste due parole? Povertà assoluta è la situazione in cui una persona non riesce ad acquistare i beni essenziali. Quindi è un metro di misura assoluto. Mentre per povertà relativa si intende una povertà in cui una persona o un nucleo familiare spendono meno della metà della media del proprio Paese o della propria area geografica, perché poi ecco la povertà relativa viene misurata città per città, nucleo familiare per nucleo familiare. C'è un algoritmo dell'Istat che se avete voglia di giocarci un po' potete trovare su internet e fare delle simulazioni per vedere se qualcuno che conoscete sta dentro la fascia di povertà. E vi assicuro che qualcuno che conoscete c'è di sicuro, perché è un fenomeno molto molto più esteso di quello che si potrebbe pensare. Vedete, le famiglie non povere sono circa il 90%, il 10% delle famiglie italiane e straniere sono povere, o appena povere o sicuramente povere. Ecco, però la povertà non si distribuisce in modo uguale, ma colpisce di più proprio le famiglie degli stranieri. vedete che c'è un gradiente. Mentre le famiglie composte da soli italiani sono povere in modo assoluto nel 4,4% dei casi, tra le famiglie composte da una coppia di due persone entrambe straniere si sale al 28%. C'è una famiglia su tre di migranti e in condizioni di assoluta povertà. E poi dopo c'è una povertà che si definisce estrema, che sono le povertà dei senza dimora, sostanzialmente senza tetto, senza casa, ci sono varie definizioni, ci sono delle classificazioni. All'interno del mondo senza dimora ci sono delle classificazioni che dicono che tipo di alloggio hai o non hai e questo è anche un predittore delle condizioni di salute, perché un conto è vivere sotto i ponti, un conto è vivere dentro l'ostello della Caritas, un conto è vivere in strutture pubbliche. E anche questa della povertà estrema è una situazione in continuo aumento e che riguarda tanto gli italiani quanto gli stranieri. Allora, questi due temi della povertà e delle migrazioni purtroppo sono vissute anche dall'opinione pubblica come una diade conflittuale, cioè come una guerra tra poveri. E guardate che questo è molto presente nella sensazione e nella percezione dei nostri concittadini, cioè si ritiene che il migrante sia colui che ruba il lavoro all'italiano, colui che provoca malattie, colui che altera l'identità culturale del nostro popolo. E questo genera conflitti non solo in Italia ma in tutti i paesi di accoglienza o diciamo come avete visto in Francia o in altri paesi. questo è una questione veramente esplosiva che se non viene governata e anche comunicata correttamente può portare a dei conflitti diciamo molto seri. Noi abbiamo avuto quest'anno la visita del presidente Mattarella al nostro istituto perché lui è molto attento alla questione migratoria e ci ha detto queste parole che ci hanno veramente impressionato per la lucidità e anche per l'umanità che lui ha saputo dare. Cioè lui dice stiamo parlando della stessa cosa cioè delle due facce di una stessa medaglia che è la medaglia purtroppo della diseguaglianza. e vedete ci si difende da questi cambiamenti epocali c'è per esempio ci sono dei pregiudizi delle paure c'è il pregiudizio che il migrante porti malattie contagi diciamo contagi la popolazione italiana sia un untore il che è diciamo contraddetto da tutte le statistiche da tutta l'attività medica che si svolge ormai nelle strutture pubbliche private nel volontariato ormai da almeno vent'anni così come c'è l'altro pregiudizio del migrante che approfitta il migrante che tra virgolette ruba il diciamo i benefici sociali alla popolazione italiana anche questa è un è un falso mito un pregiudizio la stragrande maggioranza dei migranti sono qui per cercare una collocazione stabile dignitosa non certo assistita e quindi anzi a volte devo dire chiedono molto meno dei diritti di cui avrebbero a disposizione molto spesso non sanno di che diritti godono e non li richiedono quindi questa è diciamo un'altra opera di sensibilizzazione che deve essere fatta e sull'altra faccia della medaglia anche nei riguardi dei poveri ci sono tanti pregiudizi un pregiudizio sottile che è stato diciamo ampiamente come dire sostenuto nell'opinione pubblica è che il povero se è malato lo è per colpa sua perché non ha fatto abbastanza perché non ha prevenuto abbastanza perché non ecco diciamo questa azione di colpevolizzazione della vittima è molto diffusa ci sono stati diciamo anche anche delle brutte prese di posizione anche di persone che avevano responsabilità pubblica che hanno sostenuto questa tesi se sei povero è colpa tua non hai fatto abbastanza se sei malato è colpa tua non hai fatto abbastanza in tal modo ignorando diciamo le condizioni diciamo che creano povertà e che creano malattia che non sono come è scritto nei libri di medicina soltanto condizioni microscopiche o genetiche ma sono anche e soprattutto condizioni di carattere generale quelle che vengono chiamate quelle che vengono chiamate determinanti sociali della malattia e cioè cosa si intende per determinanti sociali della malattia si intende quelle condizioni che non sono di tipo medico ma che riguardano il reddito l'istruzione l'abitazione le relazioni sociali tutto quello che attorno ad un individuo influenza diciamo la sua probabilità di ammalarsi e questo grafico un po' vedete fa vedere come attorno al paziente malato ci sono sì gli stili di vita che è il primo cerchio più interno ma poi attorno ci sono i network la rete comunitaria e sociale e poi ancora attorno ci sono le condizioni socio-economiche l'istruzione l'ambiente in cui si vive ecco in questo schema qui ho cercato un po' di riassumere l'interrelazione tra questi fenomeni voi vedete che la salute è l'ultimo rettangolo sulla destra è influenzato sia da fattori comportamentali sia da fattori materiali sia da fattori psicosociali a loro volta questi tre sono strettamente connessi a fattori socio-economici per cui c'è un'interrelazione tra questi determinanti e le condizioni di salute del singolo individuo e questo riguarda sia i poveri sia i migranti ma riguarda tutti noi direi per cui gli epidemiologi hanno classificato i determinanti di malattia in distali e prossimali prossimali sono quelli che noi diciamo di cui ci accorgiamo subito cioè le condizioni di lavoro della persona l'ambiente in cui vive lo stile di vita ma dietro di questi nascosti dietro di questi ci sono i determinanti distali cioè la posizione socio-economica il livello di istruzione l'occupazione il tipo di lavoro che si svolge e il reddito tutta questa complessità di fattori predispone all'insorgenza di malattie e vedete che poi c'è quella linea blu che torna indietro dalla salute torna indietro perché poi anche essere malati peggiora retroattivamente le proprie condizioni si crea una vera trappola sei povero ti ammali di più ti ammali di più sei più povero e come anche il fatto di essere migranti incide su tutti questi fattori e anche da solo l'essere migrante è un determinante di povertà e di cattiva salute quindi è un fattore diciamo di rischio accenna accennavamo prima al fatto che i migranti non sono una categoria unica ma sono diverse tipologie di situazioni e voi le trovate e leggete sulla colonna di sinistra e vedete che queste tipologie giuridiche richiedenti protezione o beneficiari della protezione o l'immigrante disoccupato o il minore eccetera o l'irregolare spesso si intreccia a condizioni anche di vulnerabilità particolare cioè l'essere senza dimora o essere stato vittima di tortura o essere stato o essere tuttora vittima di tratta crea delle miscele esplosive crea delle miscele che sono davvero dei drammi da risolvere sul piano non solo della salute anche della salute ma proprio dell'integrazione di queste persone quindi direi che alla fine anche la condizione legale è un determinante di salute anche la condizione legale può diventare un determinante di salute perché ti dà accesso ai servizi in modo differenziato c'è tutta una c'è tutta uno studio su quanto pesino questi determinanti sociali e pesano tanto voi vedete questo è un report dell'OMS europeo e una delle evidenze è che tra i vari paesi europei in funzione della diciamo dello stato socio-economico e di istruzione ci sono differenze persino di 17 anni di vita in più o in meno nei maschi e di 12 anni di vita in più o in meno nelle donne quindi questo vi fa capire come diciamo la salute non sia equamente distribuita anche se guardiamo alla sola Europa ma sia diciamo diseguale quando parliamo di diseguaglianze quindi di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di differenze ingiuste nello stato di salute tra popolazioni che vivono diciamo nello stesso ambiente perché dico ingiuste perché gli inglesi hanno due termini diversi per dire diseguaglianze loro usano la parola inequality per dire la differenza se e basta la semplice differenza l'osservazione di una differenza e invece usano il termine inequity per dire che quella differenza non è naturale non è inevitabile ma è una differenza ingiusta in quanto potrebbe con mezzi ragionevolmente alla portata essere ridotta o annullata quindi noi quando parliamo di diseguaglianze parliamo di questo secondo tipo di differenza che non è la differenza tra l'essere maschio e femmina la diseguaglianza di genere qui stiamo parlando di cose invece corregibili e riducibili con appropriati interventi per quanto possa sembrare strano a tutti noi anche in Italia che è un paese tra i più solidaristici che c'è ci sono differenze nette tra gruppi sociali in quanto alla salute quindi ci sono differenze che riguardano la mortalità l'incidenza di malattie la prevalenza delle malattie e tutti i vari aspetti della medicina sono tutti influenzati dalla classe sociale dal livello di istruzione dal reddito e dai beni posseduti questo libro le documenta documenta appunto le diseguaglianze in Italia e ha questa posizione che anch'io condivido è una posizione in cui si dice bene l'Italia è un paese solidale un paese universalistico quindi ha un buon livello di equità e tuttavia è sempre a rischio perché la forbice tende sempre a divaricarsi c'è sempre più pressioni che fanno in modo che le classi sociali più abbienti abbiano molto di più delle altre le altre restino indietro quindi occorre dicono loro fare degli sforzi per mantenere questo livello di equità non diciamo non accettare la situazione così com'è ecco quanto quanto potremmo stare meglio se tutti stessero come le popolazioni come i gruppi sociali migliori c'è stata una ricerca abbastanza accurata su questo che ha provato a dare una risposta e la risposta è questa cinque anni e mezzo cioè si potrebbe star diciamo una persona che sta al livello più basso della scala sociale potrebbe guadagnare cinque anni e mezzo di vita se potesse avere le stesse opportunità di salute che ha un dirigente non è poco cinque anni e mezzo di vita queste sono le differenze tra la posizione più bassa e la posizione più alta della scala sociale guardate che esiste proprio un gradiente sociale lo chiamano gli epidemiologi cioè la differenza non è solo tra l'ultimo della classifica e il primo ma ogni gradino della scala sociale c'è un miglioramento se si sale o un peggioramento se si scende quindi è una relazione forte che resiste diciamo lungo i diversi livelli di reddito e di benessere ecco ci sono un'infinità di studi che provano questa relazione in tutti gli ambiti della medicina riguarda la mortalità dopo alcuni interventi per esempio la mortalità dopo l'intervento di bypass orto-coronarico è superiore nelle popolazioni più svantaggiate così come alcuni tumori hanno una prognosi peggiore tra le popolazioni meno istruite le persone meno istruite hanno più probabilità di avere ricoveri anche per condizioni che sarebbero trattabili domiciliarmente o ambulatorialmente hanno minori probabilità di avere buoni interventi e procedure e hanno il rischio appunto di morire più elevato per alcuni tumori che sarebbero che sono trattabili le differenze riguardano anche gli stili di vita e quindi vedete che le popolazioni con minori risorse hanno più probabilità di iniziare a fumare precocemente hanno un maggior grado di dipendenza dal fumo una minore capacità di smettere e questo riguarda anche l'abuso di alcol così come riguarda l'accesso per esempio agli screening di massa contro i tumori anche qui le popolazioni più le donne in questo caso perché sono i tumori diciamo della mammella del collo dell'utero hanno diciamo minore accesso minore all'informazione minore accesso agli screening questo riguarda invece la relazione tra i problemi comportamentali dei bambini e il peso alla nascita voi vedete che in basso avete il peso alla nascita alto medio e basso vedete non so se si riesce a vedere alto medio e basso andando verso destra ci sono i bambini più sotto peso e sulle ordinate ci sono i problemi comportamentali la riga rossa riguarda le classi sociali più abbienti dove si il basso pesa la nascita influenza un pochino i problemi comportamentali in età scolare vedete che più sono sotto peso più problemi comportamentali hanno durante le scuole ma se prendiamo le classi sociali più deprivate vedete come si impenna diciamo quindi essere contemporaneamente portatori di fattori di rischio basso peso alla nascita e bassa classe sociale è un predittore molto forte di problemi comportamentali in età scolare bene quindi noi ci troviamo dinanzi a questo scenario mondiale anche uno scenario italiano in cui diseguaglianze salute e migrazione sono fortemente intrecciate e generano diciamo diseguaglianze diseguaglianze e le diseguaglianze a loro volta generano tensioni sociali esclusione e una serie diciamo di problemi che noi vediamo che noi osserviamo proprio oggi sulla Repubblica di oggi ve lo segnalo c'è un bellissimo editoriale di Thomas Piketty che non so se conoscete e un epidemiologo inglese che ha pubblicato lo scorso anno un libro che ha fatto epoca sulla storia del capitale e Piketty dice questo parlando della vittoria di Trump dice diciamolo subito la vittoria di Trump si spiega innanzitutto con l'esplosione delle diseguaglianze negli Stati Uniti e poi prosegue la principale elezione per l'Europa e per il mondo è chiara è urgente riorientare la globalizzazione le diseguaglianze e il riscaldamento climatico sono le principali sfide del nostro tempo ora quindi diciamo facciamo un punto di quello che ci siamo detti finora siamo partiti dal considerare diciamo la questione della salute dei migranti e abbiamo allargato prima lo sguardo ad altri gruppi svantaggiati che sono sia stranieri che italiani e poi siamo andati un po' allargando il nostro grandangolo e abbiamo capito che dietro questi problemi di salute ci sono determinanti sociali importanti e ci sono quindi scelte diciamo da fare perché la diseguaglianza non si amplia ancora di più ora quindi se le cose stanno così capite che i pregiudizi e i falsi miti diciamo sono semplicemente un tentativo psicologico di difendersi da questa complessità no e un istinto di paura dinanzi a questioni che sono molto molto più grandi di noi e quindi diciamo questo è un po' la radice anche del problema prima di parlare proprio di aspetti medici volevo finire con una citazione che secondo me è abbastanza illuminante noi adesso stiamo parlando dell'Italia ma il problema riguarda il mondo abbiamo visto l'editorale di Piketty che parla degli Stati Uniti la diseguaglianza le migrazioni la povertà sono problemi del mondo e i problemi sono così intrecciati da una parte all'altra del globo che si parla ormai di salute globale quindi ciò che succede nell'ambulatorio di Trastevere in qualche modo è anche il riflesso di dinamiche che avvengono da tutt'altra parte del mondo per esempio io sono stato incuriosito del fatto che noi vediamo molte persone del Bangladesh non so se vi capita anche a voi i bengalesi ce ne sono tantissimi in Italia ma perché arrivano queste persone e quali sono le spiegazioni delle loro malattie bene c'è questo libriccino che vi ho messo in bibliografia di un epidemiologo italiano che si chiama Vineis che lavora a Londra lui parla proprio del laboratorio del Bangladesh e cosa ci dice lui? lui dice che il Bangladesh è uno dei paesi più poveri del mondo abitatissimo popolosissimo ha una popolazione come quella degli Stati Uniti pensate che ha la disgrazia di essere al di sotto del livello del mare e il progressivo innalzamento diciamo delle acque dovuto al riscaldamento del pianeta sta cominciando a far entrare nelle regioni costiere l'acqua salata voi dite ma questo che c'entra con il nostro problema c'entra perché lui spiega che questo effetto diciamo della salinizzazione dell'acqua potabile provoca almeno due grossi problemi sanitari il primo è l'esplosione di epidemie di colera perché il vibrione del colera si nutre di acqua salmastra quindi questo è diciamo una potenziale minaccia alla salute di tutti noi perché poi colera diciamo può diffondersi la seconda cosa è che queste popolazioni bevendo grandi quantità di acqua salinizzata sviluppano ipertensione arteriosa e gestosi allora voi capite che quello che diciamo noi vediamo qui nei nostri ambulatori è in qualche modo il riflesso di dinamiche globali che avvengono in parti lontanissime del mondo e che poi finiscono di cui noi vediamo soltanto diciamo l'individuo ma hanno radici molto più elevate e lui poi conclude dicendo il Bangladesh è poi caratterizzato da un altro problema tipico della globalizzazione cioè l'emigrazione di massa le conseguenze sulla salute dei migranti sono importanti in particolare per quanto riguarda la salute mentale ecco ancora non ne avevamo parlato adesso però anche la salute mentale è una questione importante sia nelle classi diciamo disagiate italiane sia tra i migranti l'alta frequenza di ansia e di depressione tra i migranti è attribuibile alle difficili condizioni economiche in cui si trovano alla consapevolezza delle aspettative generate nelle famiglie dalla loro migrazione e dalle differenze e dalle resistenze culturali con il paese ospitante quindi noi ci troviamo dinanzi a questa situazione di salute diciamo globale bene e adesso veniamo a guardare più da vicino quali sono queste condizioni di salute dei migranti e ecco la prima cosa che vi volevo mostrare è questa contrariamente a quello che uno si aspetterebbe i migranti sono relativamente in buone condizioni di salute cioè la stragrande maggioranza delle persone che noi visitiamo ma noi ma tutti che visitano stanno bene sono giovani sono venuti qui per lavorare sono quelle persone su cui le famiglie hanno puntato risparmiando dollaro su dollaro perché venendo in occidente possano a loro volta guadagnare e mandare le rimesse a casa quindi la condizione che noi chiamiamo effetto migrante sano il che vuol dire che non si trovano grandi condizioni diciamo gravi condizioni in queste persone sono persone che si ricoverano di meno degli italiani sono persone che hanno meno tumori degli italiani e almeno all'inizio della loro storia migratoria diciamo sono in condizioni diciamo buone il punto poi qual è è che la storia migratoria poi diventa pesante perché con gli anni queste persone possono essere esposte qui dove vivono a fenomeni che sono quelli dei determinanti sociali che abbiamo detto prima cioè abitazioni malsane o sovraffollate stili alimentari sbagliati occidentalizzati ai quali loro non sono abituati quindi esplosione anche di sovrappeso di obesità di ipertensione situazioni di stress lavorativo cioè lavoro precario soggezione ai padroncini eccetera eccetera tutte condizioni che finiscono per peggiorare piano piano il patrimonio di salute che loro avevano quando sono arrivati a ciò si unisce il fatto che non sempre loro sanno prendersi cura della loro salute perché hanno non conoscono il nostro sistema sono 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 per loro è un sistema estraneo anche un sistema pericoloso a volte perché temono di essere denunciati voi sapete che in Italia qualche anno fa ci fu una proposta di legge molto dibattuta in Parlamento che chiedeva ai medici di denunciare i clandestini non so se qualcuno di voi ricorda quegli anni lì parliamo di 5-6 anni fa e ci fu una insurrezione da parte dei medici che con lo slogan noi non denunciamo si opposero fermamente costrinsero il Parlamento a ritirare questa che sarebbe stata diciamo una legge iniqua però nonostante non si nessuno sia nessuno sia denunciato esiste ancora tra i migranti la percezione del pericolo loro hanno timore di essere denunciati e quindi stanno lontano dai servizi proprio arrivano quando proprio non ne possono fare a meno quando le loro condizioni sono diventate gravi la cosa che mi ha impressionato è che qualche mese fa nel nostro istituto è venuto un giornalista di un settimanale una giornalista di un settimanale perché era incuriosita del nostro lavoro e non credeva parliamo di una persona di media cultura non credeva che in Italia fosse proibito denunciare gli irregolari cioè era convintissima che fosse la legge fosse diciamo quella che poi non è stata mai approvata cioè che fosse obbligatorio denunciare ora pensate quanto è radicato questo sentimento nell'opinione pubblica anche di persone quindi c'è un come dire un forte pregiudizio quindi loro si allontanano se non quando sono molto ammalati cosa dicono i dati sullo stato di salute dei migranti italiani qui vedete le curve che riguardano in basso l'HIV in alto la malattia conclamata e linea scura diciamo i migranti linea tratteggiata gli italiani vedete partiamo dal basso negli anni inizi degli anni 2000 italiani bassissima incidenza di infezione d'HIV migranti molto alta via via anche nei migranti diciamo questo questo fenomeno comincia a ridursi rimane sempre una notevole differenza perché l'endemia nei paesi africani esiste però diciamo si cominciano a osservare delle riduzioni lo stesso per ancora più diciamo netto è l'indicatore di malattia quello di sopra ecco l'attico di sopra dove vedete la malattia aveva avuto un picco ma via via che le persone entrano nel sistema di cure e vengono curati con i farmaci retrovirali vedete che la malattia ormai tra italiani e migranti è molto vicina come tassi di incidenza quindi vuol dire che il sistema di cure è riuscito a farsi carico di questa fetta di popolazione che prima veniva esclusa ecco una curva simile per la tubercolosi io non so se riuscite a vedere in basso in basso forse le due curve la tubercolosi tra i migranti continua progressivamente a diminuire per quanto resti almeno 5-6 volte più alta di quella degli italiani però diciamo c'è una tendenza alla progressiva riduzione perché la tubercolosi non si viene quasi mai in Italia con la tubercolosi si viene tutta al più con quella che si chiama infezione tubercolare latente che vuol dire essere venuti a contatto col microbo ma non avere la malattia voi per fortuna siete più giovani ma io mi ricordo noi alcuni anni fa quando mi iscrissi a medicina facevamo tutti noi la vaccinazione contro la tubercolosi perché ancora 30 anni fa molti italiani moltissimi italiani eravamo venuti a contatto con il micobatterio della tubercolosi abbiamo sviluppato la tubercolosi no perché la tubercolosi si sviluppa solo quando il microbo si riattiva o per un immunodepressione o quello che succede spesso per condizioni di vita estremamente disagiate cioè la fatica la cattiva alimentazione il sovralavoro il sovraffollamento fanno sì che quella che è una semplice infezione diventi poi una malattia quindi tanti migranti che hanno la tubercolosi ce l'hanno perché l'hanno non l'hanno presa l'hanno sviluppata in Italia qualcuno viene anche con la tubercolosi ma sono molto pochi noi in in un gruppo di 9000 pazienti ne abbiamo trovati due solamente due con la tubercolosi quindi è un fenomeno abbastanza raro raro e facilmente riconoscibile e trattabile ecco però non c'è questa presunta epidemia di tubercolosi nel nostro paese è una malattia riemergente ma è riemergente perché c'è l'HIV perché ci sono tanti fattori non sono i migranti che portano tubercolosi loro ne hanno un po' più di noi ma non sono certamente loro ci sono studi ormai conclusivi sul fatto che anche quando tu hai questi migranti con la tubercolosi non c'è mai stato un focolaio di tubercolosi tra i nativi indotto dai migranti quindi anche su questo diciamo ci può essere una certa serenità ecco questo è una raccolta sistematica di studi che conclude in questo modo questa revisione sistematica fornisce evidenza che la tubercolosi in popolazioni nati all'estero non ha una significativa influenza sulla tubercolosi della popolazione nativa nei paesi dell'Unione Europea bene stessa cosa per le epatite virali le epatite virali di tipo B ormai si sta riducendo notevolmente tra i migranti anche per effetto delle vaccinazioni contro le epatite ci sono dei paesi in cui ancora l'epatite C fa ancora paura il principale di questo è l'Egitto ma perché in Egitto ci sono state diciamo c'è stata una diffusione dell'epatite C per delle terapie praticate in maniera sbagliata quindi è iatrogena sono malattie indotte da comportamenti sanitari sbagliati o invece questa riguarda non una malattia infettiva ecco le malattie infettive sono quelle di cui tutti hanno più paura perché sono contagiose quindi rappresentano una potenziale minaccia per gli altri però per i diretti interessati guardate che questa forse è la condizione peggiore cioè l'interruzione volontaria di gravidanza e che sta per fortuna diminuendo anche tra le migranti però ancora vedete 3-4 volte più elevata questo perché perché manca l'educazione sessuale perché manca l'utilizzo di mezzi diciamo protettivi perché ci sono ci sono delle diciamo delle ci sono ci sono delle dei convincimenti su base tradizionale o religiosa che non consentono diciamo la propria azione responsabile ci sono donne che vengono sono vittime di tratta e quindi questo è un problema notevole di sanità pubblica per fortuna anche qui vedete se uno guarda col tempo in dieci anni si è quasi dimezzato anche nelle donne straniere il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza e questo per esempio è uno studio qui del Veneto che fa vedere come siano molto più comuni nelle donne straniere le diciamo le gravidanze al di sotto dei vent'anni quindi gravidanze precoci diciamo tra minorenni quindi c'è un grande problema di educazione sanitaria di intervento nelle scuole nei consultori anche nei luoghi di ritrovo di queste persone perché è più facile avere un contatto magari al mercato dove si vendono i prodotti tipici dei loro paesi di origine oppure nel cortile della parrocchia dove loro si ricontrano la domenica o al giardinetto dove hanno il giovedì libero quindi ci sono tutta una serie di interventi che vengono mirati proprio in questi luoghi di vita per fare educazione sanitaria anche gli irregolari hanno più o meno lo stesso profilo di salute che vi abbiamo appena detto poco fa che riguardava i regolari di solito gli irregolari hanno un excursus cronologico e nel primi uno o due mesi dall'arrivo hanno problemi diciamo legati al viaggio quindi sono problemi prevalentemente di malattie della pelle sono un certo numero alla scabbia che è una malattia che loro contraggono non certo nei paesi di origine ma la contraggono in questi luoghi dove vengono fatti aspettare per mesi e mesi prima della traversata voi sapete che lungo la Libia lungo la costa della Libia ci sono una miriade di questi casoni di questi di questi hangar in cui stanno in tre quattrocento e sono sorvegliati dai trafficanti e tutti ammassati tra di loro vivono lì anche mesi finché poi decidono i trafficanti che è ora di farli partire ecco lì dentro ovviamente le condizioni di igiene sono pessime oltre al fatto che loro soprattutto le donne subiscono continue violenze di tipo fisico e anche di tipo sessuale quindi diciamo all'arrivo si vedono i segni di questa diciamo così di questa detenzione di queste violenze poi ecco superata questa fase inizia un periodo di acclimatazione che dura intorno al primo anno in cui loro effettivamente stanno benissimo vengono solo per fare qualche controllo così poi dopo pian piano dopo il secondo il terzo il quarto anno cominciano ad avere gli stessi problemi della popolazione nostra quindi hanno l'obesità hanno l'ipertenzione più si va avanti col tempo più assomigliano a noi perché condividono diciamo gli stessi gli stessi ambienti e gli stessi fattori di rischio per esempio è tipico dei cinesi e dei bengalesi che stanno dopo un po' di anni in Italia che sviluppino il diabete il diabete è molto diffuso tra cinesi e bengalesi che hanno soggiornato 3, 4, 5 anni in Italia e un po' per una predisposizione genetica un po' per l'alimentazione sbagliata a cui vanno incontro un'altra tipica malattia dell'adattamento è la carie dei bambini i bambini figli dei migranti hanno tantissima carie perché i genitori fanno mangiare merendine fanno bere la coca cola e quindi questa cosa diciamo determina un'incidenza molto elevata di carie e di problemi dentali anche importanti ecco un altro problema qui questo è un report dell'OMS sempre sui migranti irregolari che appunto sintetizza quali sono le principali condizioni sono le gravidanze indesiderate le gravidanze delle teenagher l'abbiamo detto poco fa il poco screening per il pap test malattie neonatali e psicosociali dei bambini la depresione le violenze lo dicevamo prima traumi sul lavoro di questo non abbiamo parlato ma la maggiore causa di ricovero dei migranti di sesso maschile sono traumi da lavoro perché fanno lavori pesanti lavori rischiosi non sono formati alla prevenzione e quindi sono sfruttati anche quindi diciamo i traumi sul lavoro poi si vedono in pronto soccorso e si vedono in ricovero bene allora questa diapositiva e la prossima concludono questa carrellata sulle malattie dei migranti per dire che i dati indicano che non c'è questo rischio di emergenza sanitaria che di tanto in tanto conquista le pagine dei giornali in alcuni paesi europei come l'Ungheria è stato agitato come una come dire come un come uno slogan politico i migranti ci portano le malattie questo non ci sono dati che confermino questa cosa dopo più di vent'anni di osservazione e quindi diciamo non anche se alcune malattie infettive sono più diffuse nei migranti della popolazione italiana non hanno mai determinato un rischio effettivo per le popolazioni ospitanti e invece sono condizioni facilmente prevenibili con misure di sanità pubblica tra cui anche l'educazione e la promozione della salute questa è diciamo l'affermazione molto significativa della direttrice dell'OMS europea la dottoressa Jakab che appunto ha affermato in un documento che malgrado la comuna percezione vi sia un nesso tra migrazione e malattie infettive non esiste un'associazione sistematica le malattie trasmissibili cioè malattie infettive sono primariamente associate alla povertà quindi vedete che i due fili migrazione e povertà si sono un po' ricongiunti cioè sono condizioni di esclusione sociale che hanno le stesse radici e hanno poi gli stessi effetti bene siamo quasi verso la conclusione dieci minuti ancora su che cosa si può fare purtroppo in questo campo vige un certo volontarismo una certa come dire improvvisazione cioè è stato anche comodo che negli anni scorsi a queste popolazioni si dedicassero più i volontari l'assistenza così appunto volontaria che non le istituzioni o anche singoli operatori animati da buona volontà sensibilità oppure attendendo diciamo decisioni dall'alto ecco quindi il risultato sono state una serie di iniziative assolutamente pregevoli però frammentari inefficaci che non si parlano tra di loro c'è bisogno cioè in un certo senso di mettere insieme le forze e l'organizzazione mondiale della sanità ha suggerito queste parole d'ordine per affrontare queste questioni dell'esclusione sociale innanzitutto politiche intersettoriali perché abbiamo visto che la salute da sola non basta è importante anche la politica dell'abitare la politica dell'occupazione la politica del sostegno sociale e così via una commissione di interventi che sia in parte nazionale ma in parte anche locale perché le politiche generali decise a Roma poi diciamo devono essere tradotte localmente in azioni efficaci e se manca quest'azione locale non funzionano il networking tra i diversi enti sia pubblici che privati quindi il pubblico che si assume anche la responsabilità di guidare un po' i processi ma lasciando che la collaborazione col privato intendo il volontariato il privato non profit diciamo dia il meglio di sé quindi un'azione di rete e comportamenti proattivi comportamenti proattivi cosa vuol dire un termine che si usa in sanità pubblica cioè non aspettare che la malattia che ti venga all'osservazione ma in qualche modo anticiparla andando a cercare i bisogni nascosti in maniera appunto proattiva questo è solo per diciamo per dire che vedete da un livello governativo si deve poi passare ad azioni strategiche locali che vedano coinvolti in quei cerchi i diversi attori e di azioni di questo genere ce ne sono ormai tante questa ecco è la recente linea guida dell'OMS e questa è la normativa italiana qui adesso parliamo solo di migranti l'articolo 35 che prevede che anche agli stranieri non in regola con le norme di ingresso e di soggiorno sono assicurate le cure urgenti o comunque essenziali ancorché continuative quindi non soltanto il pronto soccorso ma tutta quella gamma ampia di prestazioni sanitarie ospedaliere ambulatoriali della prevenzione che tutelino diciamo in modo essenziale e anche continuativo nel tempo da malattie e da infortuni quindi è una diciamo previsione normativa molto tutelante il nostro paese diciamo di questo può essere veramente fiero mentre in altri paesi l'assistenza ai migranti viene limitata solamente alla fase dell'emergenza il nostro paese fornisce una pluralità di servizi un punto di arrivo di questa normativa è l'accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 che vedete prevede anche che ai migranti senza permesso di soggiorno si possa dare il cosiddetto codice STP che è un codice che sostituisce il codice fiscale e con questo codice si può dare l'assistenza ai migranti tutta l'assistenza escluso il medico di medicina generale anche se l'accordo prevede che invece ai minori si possa dare il pediatra di libera scelta questo alcune regioni lo hanno poi effettivamente fatto altre invece ancora non altre normative non direttamente sanitarie però che incidono sul diritto alla salute sono queste qui di cui è bene che anche gli operatori sanitari siano consapevoli perché per esempio le vittime di tratta le vittime di violenza domestica spesso arrivano nei nostri ambulatori e hanno paura di denunciare l'autore della violenza perché temono quando sono irregolari di essere espulsi è un'altra falsa convinzione invece esistono normative che consentono sia le vittime di tratta che le vittime di violenza domestica di ottenere un permesso di soggiorno in queste condizioni e quindi di poter avere tutta l'assistenza e la protezione di cui hanno bisogno bene mi avvio verso le conclusioni perché il tempo non consente di fare altro ecco questo mi volevo invece soffermare prima dicevamo ma dinant che migrazione e povertà creano diciamo degli scenari di portata mondiale però che cosa può fare un singolo medico un singolo operatore sanitario o anche un singolo giurista se vogliamo dinanzi alla vastità di questo fenomeno mondiale perché ci potrebbe essere la risposta un po' rassegnata non possiamo fare niente dobbiamo aspettare i grandi le grandi decisioni invece si può fare qualcosa perché come dicevamo prima cambiare anche a livello locale le cose è molto importante quindi partendo dalla educazione per esempio dei medici degli studenti fino a influenzare con azioni di tipo formativo o di tipo comunicativo l'azione di chi deve assumere poi delle decisioni generali si può fare si deve fare questa azione di cambiamento e questo epidemiologo inglese Marmot che racconta sempre questo episodio di aver conosciuto i vigili del fuoco e l'azione che loro fanno per sensibilizzare le persone e istruirle alla prevenzione del rischio incendio lui dice se lo possono fare loro per l'incendio facciamolo anche noi per il servizio sanitario nazionale ora questo di cui stiamo parlando quindi è una visione della medicina che non è più solo la medicina clinica la medicina come scienza pura stiamo parlando di una medicina che ha una caratterizzazione biopsico sociale cioè che unisce le componenti biologiche psicologiche e sociali e questo viene chiamato con un con un'espressione coniata dalla British Medical Association la medicina olistica cioè vedere la persona non solo come portatrice di una malattia individuale ma anche come una diciamo espressione di una comunità di una famiglia di un luogo di lavoro e questo è quello che si fa diciamo nel nostro istituto che ha diciamo adottato questo sistema di fornire le cure senza senza liste d'attesa con un accesso immediato cioè è una walk-in clinic cioè si entra si aspetta ma si fa la visita subito se hai i documenti la fai se non ce li hai la fai lo stesso se puoi avere il codice STP noi lo rilasciamo se hai bisogno di visite specialistiche le fai possibilmente nella stessa giornata ecco questo tipo di accessibilità che è una delle chiavi che viene proposta per per la medicina del futuro cioè aprire di più le porte ai pazienti aiuta anche a prevenire complicazioni ricoveri inappropriati pronto soccorsi inutili e così via non lo diciamo solo noi lo dice anche il New England Journal of Medicine che ha fatto una statistica tra 200 amministratori di strutture sanitarie negli Stati Uniti e ha chiesto quali a loro avviso dovessero essere le caratteristiche più innovative per la medicina del futuro le prime tre caratteristiche sono primo di avere strutture in cui la salute fisica e la salute mentale vengano diciamo esaminate e trattate congiuntamente secondo costruire dei team interdisciplinari terzo creare una partnership con le comunità queste sono diciamo le cose più più importanti quindi non c'è scritto comprare più apparecchiature avere il laboratorio di terzo livello sono diciamo azioni molto più molto più semplici molto meno onerose però che danno più risultati di altre che sono tecnologicamente più avanzate bene vi dovevo dire anche qualcosa sul problema dell'antropologia e dell'approccio transculturale ma non c'è tempo vi dico solo questo che avere a che fare con i migranti è diverso dal punto di vista medico anche non solo perché i determinanti di salute sono molto più pesanti ma anche perché i migranti portano con sé un patrimonio di lingua di simboli di pensieri di tradizioni culturali e religiose alle quali noi non siamo abituati quindi una medicina diciamo transculturale deve anche in qualche modo cambiare il suo modo di lavorare e quindi dalla routine clinica occidentale deve imparare un po' ad affrontare la diversità che queste persone portano qui è importante il ruolo dei mediatori culturali ma anche importante proprio la formazione dei nuovi medici dei nuovi infermieri tutti si devono diciamo un po' devono un po' adattare il loro ragionamento clinico a popolazioni che sono diverse da quelle per le quali abbiamo tutti studiato concludo con questa con questa diapositiva e vedete noi abbiamo un sistema universalistico no? cioè dà tutto a tutti e questo è un bene come dire fondamentale un bene preziosissimo a cui non rinunciare però il rischio qual è? che se si dà tutti la stessa cosa le diseguaglianze finiscono per rimanere vedete a sinistra no? invece a destra voi vedete che bisogna dare anche in modo differenziato e quindi adottare un universalismo che sia come si suol dire proporzionale o mirato cioè adottare delle modalità di somministrazione dell'assistenza sanitaria adatta e alle diseguaglianze che abbiamo davanti in condizione di mettere tutti diciamo sullo stesso livello ecco è stato veramente estremamente interessante ed è anche stato un grande piacere poter ascoltare il dottor Fortino perché ha pur dicendo speriamo di riuscire a riallacciare i nodi alla fine ha messo in evidenza tante piccole cose che magari ad alcuni sono già familiari per quello che si legge dai quotidiani si sente alla tv per quello che può essere la pratica quotidiana però dando una chiave di lettura molto importante che è la chiave di lettura del sistema sanitario la chiave di lettura anche della nostra costituzione io avrei una serie di flash da dire ma poiché sono una chiacchierona dopo sennò non mi chiudo più la bocca quello che invece secondo me può essere importante anche nell'ottica comunque per chi sta frequentando il corso di biodiritto del corso del programma è riflettere richiamando anche un pochino quello di cui avevo parlato io la volta scorsa su quella che è la garanzia costituzionale del diritto alla salute e come venga messa in concreto alla prova tutti i giorni e allora ad esempio un tema sul quale il dottor Fortino ed io avevamo anche parlato quando ci siamo accordati è quello per esempio voi sapete l'articolo 32 della costituzione prevede che la repubblica garantisca le cure gratuite l'accesso gratuito ai servizi sanitari per gli indigenti voi capite quanto questa parte del primo coma dell'articolo 32 sia centrale per le tematiche che oggi ha affrontato il dottor Fortino non solo la garanzia del nucleo riducibile del diritto alla salute dell'articolo 35 ma anche tutto quello che è il sistema anche piuttosto complesso delle esenzioni dai ticket c'è una causa diciamo di esenzione dal ticket che è proprio quella reddituale che serve per dare attuazione all'articolo 32 della costituzione che a mio avviso ma non sono da sola a pensarlo altrimenti non ve lo direi qui è messa fortemente in crisi da queste nuove problematiche nuove dinamiche di bisogno e di tra virgolette bisogno di accesso ai servizi sanitari in condizioni di difficoltà quando talvolta non è così scontato riuscire ad ottenere l'esenzione dal ticket perché il sistema sostanzialmente si basa sul reddito dell'anno precedente magari può capitare che uno reddito l'anno prima ce l'avesse e invece quando ha bisogno dell'assistenza sanitaria non ce l'abbia più e a volte c'è uno scontro tra quella che è l'effettività del diritto e quindi l'accesso in concreto ai servizi e quello che è il programma generale che la costituzione e l'ordinamento si propongono di perseguire pur ripetendo che in Italia siamo molto molto fortunati e questo era solo per ringraziare il dottor Fortino di tutte le cose interessantissime che ho detto ma c'è qualche domanda considerazione qualche commento ecco Poco, poco. Qualcosa comincia ad esserci in alcune università che hanno più sensibilità perché magari hanno ricercato, però sono ancora situazioni molto sporadiche. Mediamente poco. Questo anche se il mondo della medicina italiana ha fatto un grande passo in avanti con il nuovo codice deontologico che prevede proprio espressamente che il medico si occupi di diseguaglianze. E' un'affermazione di principio notevolissima perché esce dalla visione individuale del medico e del suo paziente che spesso dominava i codici deontologici, il rapporto tra medico e paziente e abbraccia una visione più sociale. Questo è un passo avanti fondamentale che nel nuovo codice deontologico che è stato approvato un paio di anni fa si ritrova espressamente e prima non c'era. Quindi è stato fatto un passo avanti importante. E nelle università si insegna ancora molto poco. Questo ma anche in generale il tema della salute globale. Così esiste una rete italiana per l'insegnamento della salute globale a cui aderiscono alcune università, poche, però diciamo si sta sviluppando. Un soggetto molto attivo in questo senso è il segretariato degli studenti di medicina che si stanno invece molto dedicando a questo tema e fanno anche molta cooperazione durante gli anni della formazione. Quindi dei segnali di cambiamento ci sono. Come al solito le cose migliori alla fine vengono dagli studenti. Sono venute da noi quando eravamo studenti, non tiriamoci troppo giù, ma insomma effettivamente noi offriamo questi incontri di biodiritto, incontri di diritto costituzionale proprio agli studenti perché pensiamo davvero che sia il modo per cambiare le cose in maniera più efficace. Partendo da noi, da voi, post-truth, il fatto che circolino falsi miti, che circolino notizie false e tendenziose, strumentalizzate. Questo c'è sempre stato, è dai tempi dell'elezione di Lincoln che si era detto per esempio che uno dei candidati aveva rapporti sessuali con galline e pecore per cercare di screditare il candidato della parte opposta. Ci sono sempre state queste cose. Il problema è che forse una volta queste cose si combattevano con maggiore decisione, adesso le cose sono talmente complesse che ci accontentiamo degli slogan, ci accontentiamo delle soluzioni a effetto, dei titoli di giornale che riassumono una cosa così complessa in poche righe o in poche azioni politiche, le barricate, la chiusura, cose molto ad effetto ma alla fine che sono controproducenti come abbiamo visto. Allora per combattere il post-truth non dobbiamo affidarci a chi le menzogne, le semplificazioni le ha da sempre messe in circolo ma dobbiamo affidarsi alla nostra capacità, al nostro ragionamento, alla nostra consapevolezza nel cercare con fatica però questa è la strada di affrontare la complessità e gestire la complessità degli eventi. Speriamo che le ultime indicazioni che abbiamo nel campo così politico complessivo vengono in qualche modo smentite e che si riesca davvero a recuperare la complessità delle cose e politiche integrate, politiche complesse ma insomma che sono senza citare picchetti ma insomma sono quelle su cui bisogna lavorare, dobbiamo lavorare noi, voi per cercare di migliorare un po' queste cose senza dilungarmi su questo se non ci sono altre notazioni. Ringraziamo anche Lucia Busata che si è molto trattenuta nel fare la discussione ma purtroppo abbiamo alcuni di voi e io adesso abbiamo da fare lezione e ringraziamo molto Antonio Fortino perché insomma in un'oretta e più ci ha raccontato di tante cose che fra l'altro di un metodo anche, di un approccio ai problemi che possiamo poi trasportare su altri problemi non solo su quello della salute dei migranti. Grazie davvero e che magari vediamo di proseguire la nostra collaborazione perché ci sono tante cose che possiamo fare assieme. Molte grazie e al prossimo incontro. Grazie. 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 Grazie.